Bene ragazzi, in questo video risolvo dal punto di vista numerico l'esercizio che ho posto e la domanda che ho posto nel video precedente. Nel video precedente abbiamo visto che la composizione delle velocità in realtà dice che per comporre una velocità non devo semplicemente fare una semplice somma, ma, perché questa sarebbe la regola galileana, ma devo dividerla per un fattore correttivo che è il fattore correttivo relativistico. E poi vedremo le conseguenze di questa composizione delle velocità, ce ne saranno tante. Allora, partiamo dall'esercizio banale. Sto andando in bici ai 20 km all'ora. Allora, prima di tutto, questo cosa significa? Perché dobbiamo capire che nella composizione delle velocità ci sono due osservatori, quindi sto andando in bici ai 20 km orari e lancio in avanti una pallina ai 10 km orari e io chiedo qual è la velocità della pallina per una persona seduta su di una panchina. Quindi intanto qui, come sempre nella composizione delle velocità, ci sono al minimo tre corpi. Quindi un oggetto in movimento rispetto di solito sia ad O che O' e O' in movimento rispetto all'ora. Allora, devo fare il disegno perché altrimenti non è chiaro. Quindi mi metto, mi devo mettere sia nel mondo di O e nel mondo di O' e capire cosa succede. Quindi mi metto nel mondo di O' e vediamo i dati che ho. Non è un caso che abbia usato questi due colori perché, come vedete qui, per V uso il blu e per V' uso il verde. E vediamo i dati che abbiamo, nel senso che, allora, sto andando in bici ai 20 km orari, vi ho sempre detto mettiamo nel mondo di O' la persona solidale sulla Terra, se è possibile, e O' una persona in movimento rispetto alla Terra. È una semplice convenzione. Quindi per O' c'è O stesso che è seduto sulla panchina, ok? E poi c'è O' che invece è verde, che sta andando ai 20 km orari. Quindi c'è il nostro omino sulla bicicletta, questo è O' che sta andando ai 20 km orari. Non preoccupiamoci dell'equivalenza, le facciamo dopo. Questa, ragazzi, che cos'è quindi? Questa è la velocità che O' ha rispetto ad O. Quindi 20 km orari è la velocità che ha O' rispetto ad O, e quindi è quella che chiamo U. Poi abbiamo una pallina, ok? Anche lei non solidale ad O, ma vediamo questa pallina che velocità, perché lancia in avanti una pallina ai 10 km orari. Visto che io lancio una pallina rispetto a me, che sono già in movimento rispetto ad O, i 10 km orari, significa che questa è una scena che deve essere vista nel mondo invece di O' O' nel senso che O' che si pensa fermo rispetto a se stesso, lancia in avanti, e l'oggetto magari lo facciamo in nero, è uguale, lancia in avanti questa pallina ad una velocità di 10 km all'ora. Quindi questa è la velocità che la pallina ha rispetto ad O'. Ok? Questa è importante. E, ovviamente, cosa fa O nel mondo di O'? O' scivola di qua con una velocità che io so benissimo, perché questa, ovviamente, è la velocità che ha O rispetto ad O' e, vabbè, va di là, a sinistra, quindi è meno 20 km orari. Quindi, io nel mondo di O' so tutto, perché O' dice, la panchina scivola a sinistra di meno 20, la pallina va verso, scivola a destra di più 10, e io sto fermo a velocità 0. Ma anche, ragazzi, come potete capire, la velocità della pallina nel mondo di O', perché un pollo galileano direbbe che fa 30, ma adesso noi, questa pallina qui, non sappiamo a che velocità va. Immaginiamo, ovviamente, che vada verso destra, perché la bici stando verso destra e la pallina viene lanciata verso destra rispetto alla bici, quindi immaginiamo che vada a destra, ma comunque è il risultato che otterremo, e quindi noi dobbiamo trovare la velocità che è la nostra pallina rispetto ad O'. E allora ci viene in aiuto, appunto, questa formula qua. Vi faccio vedere intanto come crearla senza fare molto casino. Allora, io devo trovare la velocità che ha P rispetto ad O. Allora, io per crearla, ragazzi, uso questa cosa qui, perché non mi piace usare a memoria le formule. Creo la formula galileana, e poi ci metto il fattore correttivo esteniano, nel senso che per creare VPO, la furbata è questa qua. Creo V, P, ci metto un più, e poi qui ci metto O, appunto perché la regola che ho scoperto è che per combinare bene le velocità io devo fare così, e in modo interno ci metto una cosa uguale. Ok? In questo modo sono sicuro di aver creato bene la mia formulina. E io VPO' ce l'ho, perché sono i miei VPO', vedete, è la velocità della pallina rispetto alla bici. Quindi sono i miei 10 km orari, tra l'altro col più, perché per O' vanno verso, questo è importante, va verso destra. VPO' O' è la velocità che ha O' nel mondo di O, che sono i nostri 20 km orari. Quindi davvero, dal punto di vista galileano, devo davvero fare 10 più 20, ed è per quello che Galileo risponderebbe. Beh, 30. Questo è importante, perché questo è quello che io davvero ho chiamato V. Questo è quello che ho chiamato V' e questo è quello che ho chiamato U. E quindi per ottenere la formula, ragazzi, basta che io aggiunga il termine correttivo. E il gioco è fatto. Tanto io so il valore di tutti questi termini, nel senso che tanto V' fa 10 km orari e U fa 20 km orari. Poi magari faremo un esercizio con il meno per capire se c'è, se nasce della confusione. Quindi numericamente, intanto mettiamo tutto in metri al secondo. Quindi l'esercizio è questo, semplicemente V' che è 20 km orari. Lo facciamo diventare metri al secondo, divido per 3.6 e quindi viene 5.556 metri al secondo. Mentre U, che è 10 km orari, sarà la sua metà. E quindi 2.778 sono periodici, metri al secondo. Ora, come faccio a fare bene questo calcolo? Perché, non so se qualcuno se ne è accorto, a numeratore non c'è nessun problema. Li sommo e quindi mi viene un bel 8,3 periodo. E se rimoltiplico per 3.6 mi vengono i miei 30 km all'ora. Ma sotto ho un fattore correttivo. Ora, visto che V' e U sono molto piccolini, la calcolatrice probabilmente non si sta dietro. Nel senso che poi devo dividere per C quadro, che invece è un numero enorme. Quindi la calcolatrice mi dirà, se faccio questo calcolo, che questo valore fa 1. E quindi devo sempre fare la mia approssimazione. Infatti, forse vi state rendendo conto che è più difficile fare le approssimazioni a bassa velocità che quelle ad alte, perché ad alte si può fare i calcoli in modo molto semplice. Quindi, come vi ho già detto nei video precedenti, quando ho 1 più una quantità molto piccola, l'approssimazione è dire che sostanzialmente 1 fratto 1 più x è come dire 1 per 1 meno x. Nel senso che allora potrei fare 8,333 metri al secondo che moltiplica 1 meno questa quantità. Quindi, V' U su C quadro. Allora, ovviamente questi ragazzi sono i nostri 30 km orari. Cioè, se non ci fosse il fattore correttivo, poi V' U sono numeri positivi, quindi vediamo che in realtà il risultato sarà un pochino di meno, che è esattamente ciò che ci ha detto Einstein. Cioè, sicuro, per me è un pochino di meno, solo che a bassa velocità questo pochino di meno è veramente pochissimo. Ok? Ed è per quello che a bassa velocità Galileo funziona molto bene. Perché? Adesso, come avete capito, faccio le tonde, nel senso che viene 8,333 metri al secondo meno, quindi ho fatto questo per questo, e adesso appunto mi viene un 8,333 metri al secondo per V' che è V' era 5,5,5,6 metri al secondo. Mette un'unità di misura, così guardiamo una cosa. U era la sua metà, quindi 2,778 metri al secondo, fratto C quadro, che è 9 per 10 alla 16 metri al secondo al quadrato. Vedete che questa quantità è piccolissima. vabbè, poi metri al secondo per metri al secondo fa metri al secondo al quadrato che si semplifica con questo, quindi giustamente rimane un metri al secondo che dà la dimensione, ma se io faccio, e adesso ho finito l'esercizio, 8,3 sostanzialmente periodo, per 5 punto 5 periodo per 2 punto 7 periodo viene un 128,6 ma se lo divido per 9 per 10 alla 16 viene una cosa piccolissima, nel senso che viene 8,333 via periodo meno 1,43 per 10 alla meno 15 metri al secondo ed è per quello che io li tengo sempre separati perché non si capisce, cioè altrimenti dovrei usare, dovrei mettere 15 cifre decimali e se metto tutto in chilometri all'ora così vediamo, ovviamente se rimoltiplico 8,3 periodo per 3,6 vengono esattamente i miei 30 chilometri all'ora e anche questo se lo rimoltiplico per 3,6 mi viene un 5,16 per 10 alla meno 15 chilometri all'ora e quindi capite che è per questo che a basse velocità la composizione di Galileo funziona benissimo perché sarebbe 30 meno un milionesimo di miliardesimo ok? quindi possiamo dire che a basse velocità la composizione Galileiana che direbbe banalmente 30 può funzionare benissimo ma la domanda è quando è che si comincia a sentire la composizione delle velocità Galileane non funziona non è che c'è un ponte di separazione pian piano diciamo la diminuzione di velocità dovuta alla correzione comincia a farsi sentire e quindi man mano salendo con le velocità questo fattore correttivo che è la quantità denominatore comincia a essere pesante e a non fare uno in sostanza e quindi adesso vedremo cosa succede nel prossimo esercizio se invece io ad esempio in bici se fosse possibile stia andando a metà della velocità della luce e lancio una pallina a metà della velocità della luce e quindi vediamo cosa succede a metà